e meno per coppa la uscita e sai cosa ti dico io adesso mentre vediamo ancora il signor di Cesare mi sposto se i nostri amici sono d'accordo vado da Fabio Milano perché se adesso l'angolo del come eravamo l'angolo è tuo, di chi parliamo? Dimmi solo un nome parliamo dell'ultimo secondo me grande numero 10 della storia del toro chi è? Raffael Martin Basquets andiamo col come eravamo accolto da centinaia di tifosi entusiasti e accompagnato dai genitori è giunto oggi a Torino Raffael Martin Basquets il 24enne centrocampista della nazionale spagnola fino alla scorsa stagione in forza a Real Madrid il presidente del Torino Gian Mauro Borsano ha fatto gli onori di casa e presentato il giocatore ai numerosi giornalisti in maggioranza spagnoli presenti alla conferenza stampa nella sede della società Granata felice che sia venuto a giocare nel Torino sono felice che sia venuto per due motivi uno perché ovviamente il campione è talmente indiscusso che mi fa piacere averlo tra di noi ma sono altrettanto felice perché è l'inizio di una nuova era per il Torino e io voglio anche qui ricordare i tifosi che non si devono aspettare tutto il primo anno perché indubbiamente il Torino ha fatto oltre al Martin Basquets dei grossissimi sforzi che sono partiti proprio da non aver ceduto nonostante numerosissime richieste i propri campioni che vanno da Miller, che vanno a Cravero vanno benedetti, vanno lentini grazie a tutti Grazie a tutti 75 presenze, 5 reti, Raffaele Martin Vasquez Abbiamo cercato anche Schifo ma non l'abbiamo trovato ma ricordandolo insieme a Raffaele ricordiamo anche un periodo meraviglioso della storia del Torino, neanche tanto lontano Davvero un grandissimo domenica, compie 46 anni, tanti auguri a Raffaele Allora, noi salutiamo Carlo Gemini